Vai! Lascia parla, lascia parla! Come l'hai fatto così? Allora, siccome questo pezzo quello prima non è il rettore perdonio, ce ne farà uno che è un altro cavallo di battaglia. Ci farà sentire in diretta qui l'altra, l'Osteria Il Grillo in Borzano, non me lo so spiegare di Tiziano Ferroviudet. Un applauso! Diego, guarda la camera! Ma è anche qualche movimento! Questo è Domenica! Un po' di macchia laia che tirà, o si splice bene la tua bianca chieda di prima. E' un po' di macchia laana! E' un po' di macchia laana! E' quello ormolosso! E' un po' di macchia per poter fredda partire! Eh allora, che faccio d'acqua! Lui non ci pensava, io non pianto mai, non farò niente di sì, no, mai. Si! Lo ha messo, ho diversa, ma non so, non mi tocchi, più. Su che pensava continuo di nefarneticare, crederebbe stare bene quando il vero te. Sì, bravo. 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 Sì, bravo.